L'appoggio per Stefano Esciaravi che vuole caricare il pallone per Gerso, la concludere... Gerso! Il gol dal brasiliano! Attenzione al tentativo, pallone messo in mezzo, pericoloso, c'è il pareggio della Fiorentina. Colarov, ancora Colarov, spazio per il cross, la mette dentro, possibilità di andare a tiro, Pellegrini, Pellegrini, si coordina! Gerso! Ancora il brasiliano, la doppietta! Largo il suggerimento per Biraghi, il cross, attenzione, pericoloso, colpa, questo è il pareggio da parte di Simeone che ha trovato l'angolo su questo cross. Occhio qui alla velocità da parte di Chiesa che si coordina, la grandissima parada di Alisson, poi la conclusione ancora Alisson, palla che rimane lì, allontaniamola immediatamente, Benassi cerca la conclusione e poi... Palla che viene allontanata, un miracolo Alessio di Alisson. Pallone messo dentro, interessa, il gioco non arriva, gol! Di nuovo in vantaggio la Roma, con Kostas Badalas, è tornato! Occhio al pallone di Rajanangolan che si sbarazza di due avversari, il pallone per Diego Perotti, attenzione, però, fila che attenzione, Diego! Perotti la chiude! Esattamente a tre minuti dalla fine! Dzeko che prova a far tutto da solo, serve Defrel, l'assist di Dzeko Defrel, ad una mano, Sportiello! Che parada ha fatto, Sportiello!